Oggi vogliamo aggiornarvi su un paio di offerte attualmente disponibili in casa Sky e ci sono un bel po' di cose interessanti da dire tant'è che ho preso un po' di appunti questa volta Allora partiamo dal fatto che abbiamo offerte disponibili o comunque accessibili sia per chi fa già parte di Sky TV, per chi è già cliente Sky TV, sia per chi appunto non lo è e vuole accedere al servizio Partiamo però da chi è già cliente, quindi da chi è già cliente di Sky TV e vuole accedere alla fibra Sky, beh in questo caso è possibile accedere al tutto tramite un pacchetto dal prezzo mensile di 29,90€ al mese Che vi va poi ad includere ovviamente non solo la fibra fino ad un massimo di 1GB per secondo, sottolineando comunque che l'attivazione è gratuita ma vi permette anche di avere chiamati a consumo e il modem incluso sempre nel prezzo Quindi interessante, se volete approfondire il tutto vi lascio sempre qui sotto in descrizione tutti i link utili per accedere alla promozione Ma c'è da dire che come detto in precedenza per chi invece vuole accedere anche al servizio di Sky TV e quindi avere anche la possibilità degli show e delle produzioni Sky originali E le serie TV internazionali offerte da Sky potete accedere alla fibra e al servizio tramite un abbonamento, comunque un pacchetto dal prezzo totale di 39,90€ al mese Che anche in questo caso vi include il modem, l'attivazione e la fibra veloce fino al massimo di 1GB per secondo E in questo caso l'attivazione è gratuita sia per chi attiva appunto una nuova promozione, comunque chi attiva una nuova linea, sia per chi passa a Sky da un altro gestore E quindi come sempre per qualsiasi cosa vi ricordo che trovate tutti i link qui sotto o comunque qui in basso per approfondire e per accedere al nostro sito in maniera semplice e diretta E per qualsiasi cosa siamo sempre online a vostra completa disposizione e quindi arrivati a questo punto è molto semplice, basta un click e ci pensa a zorro.it Grazie